Angeli e demoni, il presidente Maurizio Zamparini ha i suoi speciali consiglieri per il mercato. L'allenatore Giuseppe Iachini invece deve pensare a scacciare dalla sua panchina spettri poco benevoli. Perché se è vero che la scena tra i due è servita a chiarire alcune posizioni e a mettere da parte le incomprensioni, resta sempre nella testa del presidente la sensazione che il proprio tecnico sia stato imprudente nelle definire sui giornali poco chiara la strategia di mercato della società. Dal canto suo Iachini mantiene la propria convinzione, cioè quella di avere una squadra sicuramente puntellata in ogni reparto, ma con alcune lacune sostanziali. E tra angeli e demoni spunta lo spettro di Fabrizio Castori, allenatore del Carpi, l'unico insieme a Breda della Tina ad aver sconfitto alle Barbera Iachini nell'anno della Serie B. Il Palermo è capolista a punteggio pieno e senza aver subito golle. Il Carpi è dall'altra parte della classifica, ma con una squadra completamente rivoluzionata dal mercato. E in fondo sarà rivoluzione anche per Iachini, che dovrà rinunciare a Rigoni, ma avrà un gilardino in più dal primo minuto, così come ha suggerito il presidente Zamparini. Insomma, domenica al Barbera tra angeli e demoni, tra paradiso e inferno. Grazie. Grazie.